ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video copvoce lancia l'offerta definitiva definitiva non solo per il prezzo per il bundle di giga e quello che offre ma anche per la velocità e come viene trattata in priorità su rete team questo operatore virtuale prima di andarla a vedere e di spiegarvi perché è la secondo me la migliore offerta che esiste sul mercato vi chiedo di iscrivervi al canale qualora non l'aveste fatto cliccare la campanellina per essere sempre aggiornati sulla pubblicazione dei nuovi video sono presente su instagram all'indirizzo mail che trovate giù in descrizione per potermi raggiungere sempre e fare qualsiasi tipo di domanda per sostenere il canale vi ricordo il mio referral link di amazon giù in descrizione che darà la possibilità di fare gli acquisti senza spendere un centesimo in più e supportare il canale se volete attivare una sim veri mobile oppure o mobile e avere riconosciuti 5 euro di ricarico omaggio al momento dell'attivazione della sim potete tranquillamente andare a vedere in descrizione trovate i codici invito bene copvoce l'ha fatta veramente grossa ha lanciato un'offerta che io chiamerei definitiva copvoce è il miglior operatore virtuale per qualità prezzo secondo me in assoluto in italia e vi spiego perché allora la rete copvoce essendo un operatore virtuale non ha limiti di banda ossia è alla massima velocità consentita sulla rete team vi ricordo che team a due operatori virtuali una copvoce uno e tiscali questa offerta di copvoce che si chiama esattamente evo 100 non solo a un prezzo stracciato 8 euro e 90 per cento giga in 4g a velocità illimitata oltre che minuti illimitati più mille sms ma vita anche la possibilità di ordinare la sim online sempre ad un costo praticamente irrisorio dove viene compreso il primo mese direttamente a 9 euro e 90 praticamente ordinate la sim e viene compreso anche il primo mese di utilizzo quindi è tutto compreso spedizione attivazione e tutto quanto allora questa offerta eccezionale per il prezzo per il bundle di giga ma specialmente come dicevo prima perché non ha limiti di velocità quindi se da voi la rete team è una rete performante vi consiglio assolutamente di ordinare copvoce o di passare meglio a copvoce il vostro numero ricordo che i servizi di copvoce gratuiti sono l'hotspot il servizio ti ho cercato chiama ora l'assistenza fai da te con specialista via app e chat quindi anche un'assistenza personalizzata vi è ovviamente un piano base tariffario e nessun vincolo e nessuna rimodulazione annunciata per il per il proseguo del del tempo quindi non dovrebbe essere fatta nessun tipo di rimodulazione ovviamente tutti i numeri a tutti i numeri che vengono messi a sovrapprezzo normalmente o gli abbonamenti eventuali che si devono attivare sono automaticamente bloccati quindi sono anche bloccate le telefonate a i numeri ad esempio 199 e i vari servizi in abbonamento che possono essere attivati navigando su internet in modo diciamo non proprio limpido e corretto dove sino a qualche anno fa si incappava sempre e alcuni operatori si sono anche arricchiti grazie a questi a questi tipi di abbonamenti l'offerta come vi dicevo è appena uscita è davvero eccezionale quindi ovviamente dovete fare sempre conto che se voi avete un ottimo segnale una buona copertura di team andrete alla stessa velocità massima che offre team per i suoi clienti quindi in teoria almeno questo è quello che ha annunciato la velocità è massima sull'antenna cioè la massima possibile non hanno un limite imposto per accordi poi la realtà può essere anche differente ovviamente nel senso che dei limiti possono anche essere imposti su determinate antenne ma comunque i limiti di banda non ce n'è e anche quando vi fossero la navigazione sicuramente sarà del tutto senza tipi di problemi senza nessun tipo di problema in quanto anche se c'è un limite che vi posso dire a 100 150 o nel caso di saturazione dovesse andare a 50 o 60 comunque la velocità è più che sufficiente per navigare 8 r 90 per 100 giga e queste condizioni sono veramente irripetibili non credo che ci sia un virtuale che offra tanto tutto questo su nessun altro operatore nessun vodafone nessun wind 3 ovviamente iliad non ha operatori virtuali quindi la mette al top questa offerta cop voce è attivabile anche nei negozi cop della cop però con delle costi di attivazione differenti diciamo che l'offerta online se fate l'ordine online a 9 euro e 90 avete tutto compreso il primo mese questa era la grande novità del momento io vi ringrazio per l'attenzione vi invito a mettere tanti like iscriviti al canale e supportarmi al prossimo video un abbraccio e un saluto alla giuseppe vi invito a mettere tanti like iscriviti al canale e iscriviti al canale e iscriviti al canale e iscriviti al canale vi invito a mettere tanti like iscriviti al canale e iscriviti al canale e iscriviti al canale